ciao a tutti e bentornati su coltivazione presa diretta allora in questo episodio vi voglio fare vedere un po com'è la situazione qui nel nostro settore di pomodoro datterino questo è un trapianto di ottobre e siamo in marzo come sapete qui da noi se seguite il canale anzi se non seguite ovviamente dovete farlo assolutamente qui da noi già in marzo c'è la inizia insomma la il pericolo tuta assoluta quindi c'è la generazione svernante quindi che si sveglia dopo l'inverno e inizia a fare danni già all'esterno delle nostre serre ci sono parecchie parecchi insetti insomma quindi farfalline di tuta e stiamo facendo i trattamenti una volta a settimana per controllarla ora ero venuto qui innanzitutto per andare a controllare l'attività dei bombi come vedete se mette a fuoco l'immagine le fioriture sono impollinate a posto le piante godono di ottima salute anche se hanno avuto quello che hanno avuto quindi dei problemi a causa dell'inverno il clima è stato un po pazzerello qui il problema grosso è stato nella fase discendente come vedete qui le piante erano molto c'era freddo quindi le piante erano rigide e qualcuna non ce l'ha fatta molto bene vedete la curva non è delle non è riuscita al meglio come negli altri settori se avete visto infatti qualche pianta si è spezzata vedete questa qui spezzata però c'è la femminella che dovrebbe recuperare qualcosa anche se questa femminella non è il massimo se non so se si vedrà è un po stramba anche questo va bene questa si è spezzata questa pianta pure vedete e va bene non si può avere tutto dalla vita però per il resto diciamo le piante che non hanno avuto grossi problemi del genere vediamo che stanno esplodendo con la primavera in una in una vegetazione ottimale la tuta c'è come dicevo prima quindi anche all'interno delle serre si vedono le l'insetto adulto si vede quindi le farfalline però grazie a questo trattamento una volta a settimana che magari ora non per non ripetere sempre le stesse cose ve lo metto ho dato un'occhiata in descrizione lo stiamo controllando benissimo da dove si vede direi assolutamente di guardare le parti apicali che in questo caso essendo discendente la pianta e oggi non mi vuole mettere a fuoco e così vediamo che le parti apicali sono anche le foglie sono ok non ci sono segni di tuta c'è qualche vecchio segno di tuta assoluta che è questo qua vedete risale a un bel po di tempo fa perché qui ripeto sempre in tutti i video anche in inverno c'è la tuta assoluta poiché l'inverno qui non è molto freddo e quindi abbastanza mite ma da quando abbiamo ripreso siamo a tre settimane che abbiamo ripreso il trattamento fogliare vi ricordo biologico bio quindi senza nessun tipo di fitofarmaco il risultato insomma si stanno vedendo ci sono degli ottimi sta fruttificando benissimo insomma vedete la pianta fruttifica e sta crescendo anche troppo se vediamo le femmine le guardate quante femmine le sta facendo nuove da tutte le parti quindi direi che la salute della pianta è buona nonostante tutto quello che c'è stato vedete qui il pomodoro matura benissimo ok basta seguiremo continueremo a seguire questa avventura della tuta assoluta ma quest'anno quanto pare finalmente dopo 15 anni ci sono buone notizie ecco perché guardate gli altri anni l'abbiamo controllata pure devo essere sincero magari non così non così facilmente e vi posso assicurare che qui molti colleghi in zona diamo un'altra occhiata da questa parte molti colleghi in zona si lamentano del fatto che appunto quest'anno c'è stata molta tuta anche in inverno quindi nei mesi di dicembre gennaio febbraio poiché l'inverno è stato caldo anche da noi e sì ci sono stati poi quei giorni un po più freddini come bene o male ci sono tutti gli anni con le gelate e maltempo vario e non solo qui di noi giù in sicilia ma anche più a nord quindi un po in tutta l'italia c'è stato un clima più caldo anche d'inverno e questo non è buono sotto il punto di vista della popolazione appunto dell'insetto quindi della tuta assoluta che già nei paesi esteri un po più caldi del nostro già sta facendo danni veramente danni seri quest'anno è iniziato se vogliamo un po prima in tutto il mondo bene quindi rinnovo l'invito a continuare a seguire il canale iscrivetevi fate i bravi picciotti e ci vediamo al prossimo episodio di coltivazione a presa diretta ciao